Nuova puntata di Gurulandia e nuove rivelazioni di Fabrizio Corona su Fedez e Chiara Ferragni. Il re dei paparazzi ha svelato dettagli scioccanti sul rapporto tra i due influencer. Una delle rivelazioni più sorprendenti è stata riguardante le presunte infedeltà del rapper nei confronti della sua ex moglie, nonché il presunto amore segreto per una donna con cui non può essere. Corona ha anche affermato che Fedez avrebbe avuto una trentina di relazioni dopo la fine del matrimonio. Inoltre, il paparazzo ha dichiarato che Fedez e Chiara sarebbero stati vicini alla pace, ma che il cantante si sarebbe infuriato vedendo la consegna del tapiro d'oro alla Ferragni. Corona ha anche parlato dei presunti momenti di falsità nella vita coniugale dei Ferragni, sottolineando come la coppia affrontasse la realtà coniugale. Il re dei paparazzi ha anche rivelato che Fedez avrebbe tradito Chiara più volte, ma che i due avrebbero vissuto momenti di vero amore. Tuttavia, Corona ha sottolineato che la migliore soluzione per loro sarebbe fare pace per superare i problemi attuali. Inoltre, ha parlato dei tentativi di riappacificazione dei Ferragniets dopo il matrimonio, che sarebbero stati vanificati dal carattere del rapper. Infine, Corona ha raccontato di un litigio tra Fedez e Chiara dopo la presenza della Ferragni a striscia la notizia, durante il quale il rapper si sarebbe sentito attaccato dalle dichiarazioni della moglie. Questo episodio avrebbe compromesso ulteriormente il tentativo di pace tra i due. Resta quindi da capire se Fedez e Chiara riusciranno a superare le tensioni.